Oh, bentornati ragazzi, eccoci qua con Xenoblades, siamo ancora qua ad ammazzare la regina degli stronzi qua, come vi dicevo, siamo in un periodo storico in cui questa gente non può causare in alcun modo un problema per me quindi possiamo provareci un po' a quello che vi pare in termini assoluti però state attenti a sottovalutare le missioni perché questa missione richiedeva livello 13 già questi nemici danno il livello 16, quindi non sottovalutate mai le missioni che vi da sto gioco perché a volte sono sopra il vostro livello, seppur di poco Sì, sì, sì Dai, dai Questa? Che sia che? Cosa? Ragazzi aiutatemi, cos'è? Chi è? Quando è? Bene A bene A well-fought victory indeed Such a shame it cannot bring back that which was lost to you But this is spilled milk over the dam I just don't get it What do they have against humans? I'm not sure how they wound up on Mira But you saw them look That is definitely better Who? The aliens that destroyed Earth The ganglian were among them What? It wasn't just them, of course But they were definitely one of the forces involved in that battle I'm absolutely positive now That scale-like mech we just saw Check it against the NLA records And I'm pretty sure it'll come back with a perfect match Wow Anyway, we really appreciate all your help here, Al But we need to be heading back now Not at all We only wish we could have done more Oh, such an experience of my life That's not a good comparison The thought makes us a good idea Ok Hmm What do you think, Rook? Mi fido Yeah We're not like the ganglian after all We want to live in harmony with all the other species here If you see, I'm going to be able to live in harmony with all the other species here Let's go Let's go The first one is for the birds Right, let's start going back We should report to the commander Bene Dai, che ho il teletrasporto in carica Dai, 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 dai Olè Allora Prendo tutto, ovviamente Poi Vediamo un attimo cosa c'è qua attorno prima Un cazzo Sì Prendo tutto Quando è già all'oscuro vuol dire che è a un altro livello Quindi magari è qua sopra Sì No, è ancora più sopra, allora niente Scusate, mi esplorso un secondo Massimo lo taglio Tanto Tanto questi qua non mi fanno veramente né caldo né freddo Eh, niente Non mi ha convinto Quindi, torniamo a casa Ah, giusto Capita spesso di non sapere dove andare in questo gioco Ma sulla mappa Sulla schermo della Wii U Del pad C'è il puntino blu che vi dice dove andare sulla mappa Non c'è solo la freccia gialla Quello vi aiuta tantissimo Perché se no Vi assicuro che in questo mondo vi perdereste È troppo ampio Ora vediamo quando finì la missione 4 E poi cosa dobbiamo fare dopo Siamo tornati in città Siamo alla zona amministrativa Tac Cosa? Scusatemi Ci sono cose Che o fai Sul momento non fai più Bella Meccanica level 4 Detto questo Torniamo dentro Perché immagino che dobbiamo andare dentro Mi mancava sto gioco Dovevo ammetterlo Mi mancava poter fare qualcosa di costruttivo Oltre alle missioni normali Aiuta sempre come cosa Io spero che l'audio vada bene ragazzi Perché Avendo cambiato postazione rispetto al solito Non si sa mai Mh? Oltre che hai prenduto un altro Zeno O che qualcuno ha guardato il suo spazio Tornato Questo è El Ci siamo in Noctilum Ci siamo El Sirif Se mi piace Il nostro è stato il nostro Il nostro paese Il giorno di yore Oh L'arrivo L'arrivo È un'esplice C'è l'arrivo 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 Perciare 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 L'arrivo L'arrivo Non possiamo Allerrivo L'arrivo 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 Forza, brava Elma. Honestno uso. Grazie, buoni signori. Sì, stiamo andando sulla 9te cloud di 7th Heaven. Scusate, chiamiamo Elma. Il resto è molto più formato. E, sinceramente, preferiamo Elma comunque. Più più importante, colonel, cosa succede con il lifehold? Eh, sono cazzi. Vedo. Quindi non era il core, dopo tutto. No. Abbiamo confermato che era una delle unità archivi. Unit numero 07. 07? Questo sarebbe il repository di LC, non sarebbe? Una delle tre, ma sì. La tutela della biblioteca dei archivi congressi. Come ricordo, il data è stato installato su unità 07-09. Bene, quindi non abbiamo perso niente di così importante. Grazie a tutti che non era il core. Questa situazione potrebbe essere molto peggio. Mi chiedo... Hmm? Le archivi dell'Archivio ha avuto quasi ogni lavoro pubblicato in storia di l'Historia dell'Historia 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 dell'Historia. Non è come un po' di scrittura e scrittura, sai? È una storia di pensi dell'Historia. Una ricorda di opinioni e di emocioni. Chiedo, sì, certo, ma... Quindi, se pari e consideri quello che significa perdere anche un terzo di loro, è una perdita cultural e storica di proporzioni catastrofici. Abbiamo dei dati di parità per i archivi qui. Siamo sapendo quale unità è perdita, quindi speriamo di trovare qualche modo di ristorarlo. Siamo speriamo. Il era da lui. Che è era da loro? ...qu'il era a El? potrebbero sapere l'integgiamento del corpo del corpo? Probabilmente la ragazza che non abbiamo trovato il corpo, è perché questi scumbagli già tracciaroni. Quindi, nessuno di noi potrebbe essere qui parlando nel primo posto, non? Ah, tu hai un punto là. Questa informazione non resta questo luogo, ma abbiamo avuto alcuni recenti informazioni di Xeno e di contatto. Potrebbero essere o potrebbero essere dei campani, ma, inoltre, mi propongo che dovessi ridurre le nostre difenze in avanti. Questo sarà tutto, Elma. Perchè continui a procurare per qualsiasi signo del livello. Sì, signor. Bene, ora? Ricordate, la clocka è sempre clicchata. Sì, sì, sì. Va bene. Bene. E ora? Fatemi giocato, il piacere. Fine. Di Mover. Molto bene. Vediamo adesso che mi raccontano. No. Bene. Sì, sì, sì. Lo so, lo so. Questo qua lo vedremo. Vai, salva. Questo possiamo farlo. E ora vediamo un po'. Vedi? Tutta roba nuova. Consegno 4 novella. Questo qua lo posso fare immediatamente, quindi si fa subito. Questa la prendiamo perchè è la nuova missione. Questi qui, di solito, ti chiedono delle cose... Eh, questo qua sono tutte quante missioni comunque da fare, come dire, in strada, in città. Adesso le vediamo un attimo. Allora, prima facciamo... Questa. Questa. Ok, di là. La la la. Sto cazzo. Non è possibile, amico. Toh, piglia. Toh, tieni. Già. Ma che brava persona che sono. Allora, vediamo un po'. Non tanto queste, ma volevo... Eh, queste qua sono tutte cazzate, potrei farle tranquillamente, ma... Allora, vediamo un po'. Vediamo un po' la missione principale cosa mi chiede stavolta. Va bene, le missione principali spigliano sempre nella casama Blade nel caso aveste dubbi, eh. Oppa, entriamo. Vediamo un po' cosa c'è da fare. Allora. Io farei queste missioni se non vi offendete nel frattempo. Un giorno nella vita di Vandan. Via, facciamo. Accetta. Subito. Vediamo un po' cos'è. Oh, al massimo... Al massimo ve la tolgo. Allora. Sì. Bene. Eh sì. Che palle. Questo però vuol dire che devo aspettare domani. Il cazzè che devo andare qua. Ho anche una roba nuova qua. Non so che sono in gioco però. Io non so se posso farla a questa missione. Se non posso farla avrete un taglio. Ve lo dico prima. Così almeno vi abituate subito all'idea. Dai. Allora. È mattina. Andiamo a comandare. Tac. Meno male che mi viene a prendere lui, va. Invece. Allora. 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 Sembra uno che sta all'assfatto suo diciamo. Come è ovvio che sia. Se sono fortunato ho già tutto Capita quando avete girato il mondo per un po' troppo tempo Invece è un cazzo Va bene, visto che la vita è una merda la finiamo qua ragazzi Ciao belli